Sono stati arrestati questa notte in flagranza per furto gravato tre uomini di età compresa tra i 25 e i 50 anni. Tutto ha avuto inizio con la segnalazione a 112 di un furto in atto nei pressi di un cantiere di Ile d'Avellino. Ricevuta la notizia, l'operatore di turno alla centrale operativa ha disposto in tempo reale l'intervento di una pattuglia della sessione radiomobile della compagnia di Avellino che giunta sul posto ha notato il furgone segnalato allontanarsi repentinamente dandosi alla fuga in direzione di Benevento dopo un lungo inseguimento con l'ausilio della pattuglia della stazione dei carabinieri di Chianche e militari sono riusciti a bloccare in sicurezza il furgone con a bordo i tre soggetti. Si tratta di tre persone residenti a Napoli, già note alla forza dell'ordine ritenute quindi responsabili di furto gravato in concorso di varie attrezzature da cantiere rinvenute nel vano del carico del mezzo. I tre lati sono stati tratti in arresto e su disposizione della procura della Repubblica di Avellino sono stati tradotti alla cassa circondariale di Belizia e Pino la repurtiva è stata restituita al proprietario.